Buongiorno, sono qui con Fabio, un rappresentante della protezione civile di Magliano in Toscana che oggi sono a Pereta per questo evento del 25 aprile e fra poco ci sarà la ruzzola, la famosa ruzzola Si rinfresca le regole, soprattutto per chi non l'ha mai corso, le regole sono di una facilità incredibile, sono solo due si parte un tiro per uno, voi vi dovete alternare un tiro per uno, uno prima, uno l'altro e tira sempre quello che è davanti, si tira un tiro per uno, poi il poverino tira il primo, il secondo, il terzo e il quarto si parte da qua, via di sotto, si arriva su alla voltina, si arriva alla torre, si scende giù per la scalinata si viene fino a qua e l'arrivo è dove comincia l'asfalto, cioè dove finisce il paese storico e comincia l'asfalto, questo è l'arrivo ed eccoci qua con i campioni uscenti Esatto, esatto Alessandro e Iuri Maglianesi Maglianesi, quindi il palio, diciamo l'ultimo palio è a Magliano, il piatto... Si, al bar di lui Il bar dove? Facciamo curiosità Caledoscaffè è in piazza proprio prima sotto l'arco Perfetto Alla porta E te sei, come ti chiami? Valerio Valerio, senti Valerio Siccome io avevo vinto il palio qui a Pereta due anni fa, facendo un tiro dalla torre quasi Si Non volevo più concorre Era troppo Avevo finito in bellezza Allora per il paese Per il paese Per il paese Sant'Andrea abbiamo Scinelli Mano e Le Filippo Fondi Perfetto 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 in paese Perfetto Prima Perfetto Buona Perfetto Sì, invidì! Non si sposta, ciao! C'è bambino! Non è il posto! Si arriva alla parte verde! Si arriva alla parte verde! Vieni, Gianni! Vado! 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 in questo momento c'è la scelta è difficile perché deve tirare là dove è il pubblico quindi vediamo il pubblico però non si sposta il pubblico il pubblico il pubblico il pubblico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.